buongiorno bentrovati amici bentrovati alla rassegna stampa di fanu tv oggi è venerdì 28 giugno 2024 abbiamo pronti i giornali questa mattina sulla nostra scrivania il Corriere Adriatico e il resto del Carlino abbiamo un approfondimento sulle cronache locali vedremo anche poi anche le notizie della regione ma intanto procediamo come sempre attraverso l'almanacco del giorno ed ecco il santo che si festeggia oggi eccolo qui è Sant'Irineo di Leone visse nel secondo secolo era un sindaco che veniva dal Medio Oriente ma poi viaggiò viaggiò venne a Roma nelle gaglie visse nel secondo secolo quando ancora il cristianesimo doveva confrontarsi con il paganesimo ebbene dopo le sue le sue soste che fece a Roma in altre località dell'allora impero romano si fermò a Leone e qui divenne vescovo e si distinse si distinse per la sua predicazione ma anche per tanti scritti che rimasero e costituiscono un elemento prezioso per la storia di quell'epoca Leone era una cittadina che ancora si confrontava con il paganesimo e ovviamente c'erano dei contrasti tra i nuovi cristiani e coloro che si soffermavano sull'antica religione Irineo morì martirizzato come poi tanti altri cristiani dell'epoca era l'impero era sotto l'impero di settimio severo ebbene Sant'Irineo di Leone fu proclamato per la sua cultura e per quanto fece anche dottore della chiesa. Ed ora passiamo alle previsioni del tempo Perdura l'estate su tutta la regione Marche, tempo stabile e soleggiato per l'intera giornata Abbiamo qualche nuba in più sulla Pennino ma nulla di che, temperature massime in aumento oggi 30-34 gradi sono le punte in cui arriveranno appunto le temperature massime la media è 30 gradi, la minima si è testata a 21 gradi I venti sulle coste da nord e nord-est nell'entroterra da ovest e sud-ovest Il mare è calmo, il sole è sorto alle 5.26 e tramonterà alle 20.54 Ed ora apriamo i giornali a partire oggi dal resto del Carlino sulla pagina di Fano dove vediamo posta all'attenzione dei lettori una disavventura di una signora sessantenne di Fano Cadde nel sottopasso ferroviario che porta al mare Siamo a Fano Nord nel litorale che corre tra Fano e Pesaro Ebbene sappiamo come i sottopassi carrabili siano molto rari ne esiste solo uno a fosso sei ore mentre ci sono degli accessi che non sono dei veri e propri accessi per far passare delle persone dalla nazionale sulla spiaggia ma sono dei passaggi per l'acqua, degli scoli per l'acqua e sono però transitabili insomma la gente li usa per andare nelle spiagge libere Ebbene nel passare sotto uno di questi passaggi una signora di 60 anni si è fatta male si tratta di Elisabetta Bartolomeoli insegnante fanese che rischia di rimanere invalida dopo una caduta che l'estate scorsa le ha provocato una fruttura scomposta alla caviglia e al femore sinistro Ebbene da questo episodio sono cominciate veramente le disavventure per questa signora L'assicurazione non le ha pagato nulla perché l'assicurazione dice che quello non era un sottopasso pedonale transitabile era uno scolo d'acqua e quindi la signora non doveva passare però non esiste alcuna segnalazione la gente ci passa tranquillamente insomma sanno benissimo tutti che la gente lo usa per andare al mare non esiste segnalazione però ci sono situazioni di pericolo e la signora si è fatta male ha detto nel sottopasso mi ha puntato il piede e sono caduta con tutto il peso del corpo sulla gamba ebbene è arrivata l'ambulanza i giorni all'ospedale l'operazione, un'operazione d'urgenza nove chiodi e una placca due mesi immobile poi la fisioterapia da quel giorno mi è cambiata la vita ha detto la signora una caduta da niente però ha prodotto gravi conseguenze in seguito due mesi di fermo nel letto sono andata più giù fisicamente mi hanno prescritto tanti antidolorifici e antinfiammatori debilitata mi è venuto anche il fuoco di Sant'Antonio pensate poi le conseguenze di questa caduta il fuoco di Sant'Antonio che le ha lasciato una pericardite una pericardite che sta ancora curando e probabilmente dovrà fare un'oblazione al cuore ho 60 anni prima dell'incidente non li dimostravo ora ne dimostro molto molto di più ha detto la signora e qui vediamo appunto l'articolo di apertura di questa notizia che viene evidenziata con grande grande evidenza dal resto del Carlino tiriamo la pagina e parliamo di un incendio che si è svolto ieri nella zona di Calcinelli colonna di fumo dal tendone a fuoco un deposito di plastica incendio di paura ieri mattina in un tendone di Calcinelli dove la struttura in fiamme era di vita a deposito di materiale plastico e quindi molto molto facilmente infiammabile a scatenare le fiamme forse un surriscaldamento del gruppo filtrante della carteggiatrice che in breve tempo ha scatenato la combustione che poi si è rapidamente diffusa le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme ma quello che preoccupava la gente del posto era anche la colonna di fumo visibile anche da lontano che avrebbe potuto provocare problemi respiratori comunque l'intervento dei vigili del fuoco è stato risolutivo e non dovrebbero esserci conseguenze per quanto fatto vediamo anche una notizia di cronaca che viene dal tribunale è stato condannato a tre anni e quattro mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia si tratta di un uomo di un uomo 48enne residente a Fano ma di origini pugliesi era un uomo secondo l'accusa un uomo violento malmenava la moglie ma purtroppo malmenava anche i figli una volta colpito il figlio di tre anni con la cinghia di pelle e anche con un bastone tre anni di età la denuncia nei confronti dell'uomo è stata presentata all'ottobre del 2022 da parte della moglie che ha chiesto la separazione l'ha fatto all'indomani dell'ultimo episodio avvenuto nei primi giorni di quell'anno del 2022 la quale ha subito ancora una volta le percosse dell'uomo l'uomo avrebbe picchiato anche con pugni, calci e schiaffi il figlio nell'androne di scale di fronte ad altre persone non aveva alcuna remora solo perché non aveva le chiavi di casa quindi anche per futili motivi questo è quanto si è prospettato di fronte al giudice di Pesaro passiamo ad Urbino abbiamo la pagina di fronte vediamo come la città ducale insieme a Pesaro ha avuto un aumento dei contrassegni rilasciati dalla guida Michelin tre stelle Michelin a Palazzo Ducale e Centro Storico due attribuite ai musei civici di Pesaro e a ricevere il riconoscimento prestigioso perché avere delle stelle nella guida Michelin una guida molto molto diffusa tra i turisti ma anche tra i gastronomi significa avere una rilevanza in più una promozione in più a livello turistico a ricevere il riconoscimento il sindaco Gambini e poi Gallo e Vimini per quanto riguarda appunto le altre istituzioni vediamo anche l'esito il commento di Scaramucci il candidato sindaco che purtroppo ha perso purtroppo per lui ovviamente ha perso il confronto con il balottaggio vinto dal sindaco Gambini Scaramucci in Trincea la nostra sarà una opposizione senza respiro ha dichiarato un'operazione costruttiva ma determinata in modo particolare per quanto riguarda la spesa di 50 milioni che il comune di Urbino si trova ad investire in situazioni veramente problematiche che dovrebbero essere posti quindi il controllo dato dall'opposizione sarà ferreo e determinato ed ora facciamo un aggiornamento per quanto riguarda il delitto di Via Fanella lo vediamo nella cronaca nelle prime pagine del resto del Carlino massacro questa è la parola che sintetizza un po' la ferocia di quanto è avvenuto quella notte tra domenica e lunedì scorso in Via Fanella sorgono nella mente degli inquirenti nuove ipotesi i soldi non sarebbero mai esistiti quei soldi che avrebbero potuto salvaguardare almeno anche se in maniera precaria la famiglia dalla perdita della loro casa sappiamo come la famiglia Ricci aveva perso la casa la casa era andata all'asta perché era stata data in garanzia alla banca per l'assunzione di un mutuo un mutuo che non era stato pagato dal figlio Luca e questa casa aveva un nuovo proprietario e proprio nel discorso i genitori di Luca avrebbero dovuto incontrare il nuovo proprietario per formalizzare una proposta il nuovo proprietario aveva concesso in affitto la casa che era stata sempre appunto di questa coppia di genitori però voleva una garanzia voleva un affitto anticipato di due anni c'è chi dice di 12.000 come il Corriere Adriatico e c'è chi dice di 14.000 euro come il resto del Carlino quei soldi però non esistevano e l'ipotesi che fa il Carlino è proprio questa il figlio avrebbe dichiarato ai genitori che questa somma era disponibile in realtà non l'aveva e quando era giunto il momento di pagare il figlio non avendo questi soldi si è sentito veramente molto molto in colpa e come reazione avrebbe ucciso i genitori per non farli soffrire questa è un po' la tesi che viene evidenziata dal giornale nelle ultime ore si è fatta strada questa seconda pista investigativa Luca Ricci potrebbe aver rassicurato i genitori che era tutto a posto che non c'erano problemi ma poi stretto all'angolo dalle sue stesse menzogne sarebbe crollato e avrebbe perso la testa questo per quanto riguarda questo atroce delitto che non finisce mai di destare l'emozione di tutta la città vediamo anche l'aggiornamento che fa di questa notizia il Corriere Adriatico lo fa sulla pagina di Fano Luca è disperato aspettate un attimo ecco qua Luca è disperato a ricordi flash non sa perché ha colpito i genitori l'avvocato Longhini che difende difende Luca Ricci accusato di duplice omicidio ha incontrato il carcere pensate che Luca Ricci è in cella con con Michael Alessandrini l'uomo che è accusato dell'omicidio di Pierpaolo Panzieri per il quale mercoledì prossimo si aprirà il processo davanti alla corte di assese di Pesaro i due sono nella stessa cella e qui veramente ora c'è la disperazione c'è il rimpianto c'è veramente il crollo di una persona che lì ha avuto un momento di esaltazione ha perso la testa e ora cerca di capire che cosa ha fatto perché nemmeno lui si rende conto di quello che è stato compiuto intanto domani ci saranno i funerali di Giuseppe Ricci e di Luisa Marconi marito e moglie che sono stati appunto uccisi dal figlio nella notte tra domenica e lunedì i funerali saranno le 10 nella chiesa della Santa Famiglia a Fano II a celebrarli saranno il parroco Don Solazzi Don Vincenzo Solazzi ma ci sarà anche il Vescovo Monsignor Andrea Andreozzi questo a testimoniare la commozione la partecipazione di tutta la comunità cristiana a questo evento luttuoso ma a questo evento parteciperà senz'altro tutto il quartiere perché la famiglia Ricci era molto molto conosciuta e poi c'è anche una grande attestazione di solidarietà nei confronti della sorella di Luca Ricci Orietta che ha dovuto prendere le redini organizzare tutto il funerale nonostante che lei stessa fosse convalescente di una grave malattia ed un intervento chirurgico che era stato appena eseguito quindi si trovava in uno stato di salute veramente precaria quindi un grande sostegno a questa donna e un grande spirito di solidarietà nei confronti di tutta la comunità attorno alla famiglia e soprattutto ai nipoti della famiglia della coppia che è rimasta vittima del delitto passiamo alle altre notizie restiamo un attimo sul resto del carlino e vediamo come c'è un consuntivo dell'attività della guardia di finanza l'anno caldo così viene definito delle fiamme gialle scoperti 84 evasori totali lotta la droga usura ed eco reati ecco un po' sintetizzata l'attività della guardia di finanza dal maggio 2023 ad oggi in occasione della celebrazione del 250esimo anniversario del corpo ebbene la stretta si è avuta nei confronti del controllo nel controllo della spesa pubblica stangati 81 percettori illeciti di reddito di cittadinanza anche nella nostra provincia c'erano coloro che avevano richiesto il reddito di cittadinanza ma non ne avevano diritto pensate quanti evasori quante persone hanno percepito questi sussidi pur non ne avendone diritto ebbene l'inchiesta per contrastare la piaga del caporalato anche nella nostro territorio e poi i controlli serrati sull'assegnazione dei fondi pubblici in modo particolare per quanto riguarda il PNRR la lotta allo spaccio della droga all'evasione fiscale ai reati ambientali all'usura sono stati i principali terreni di confronto terreni di indagine da parte appunto delle fiamme gialle vediamo un attimo un piccolo consuntivo non lo dico tutto perché veramente sono molti i reati che sono stati individuati sono stati scoperti 84 evasori totali e poi ancora 124 lavoratori in nero o irregolari i soggetti denunciati per i reati tributari sono stati 75 di cui uno è stato arrestato 18 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare 2762 chilogrammi di prodotti energetici quelli che si usano nelle palestre in provincia sono state eseguite 81 verifiche per gli interventi sulla legittimità dei redditi di cittadinanza spesso si tratta di persone a volte extracomunitari che non hanno la residenza in Italia insomma poi tutto il resto vi invito a leggere i giornali c'è anche un aggiornamento per quanto riguarda l'indagine fatta nei confronti delle fattorie marchigiane dei colli del Metauro un'azienda controllata dalla Trevalli ecco qua l'articolo a cui si riferisce questa notizia ebbene sono stati ascoltati in procura i primi indagati della inchiesta però gli indagati non parlano e si sono riservati la facoltà di non rispondere e poi vediamo come Pesaro ieri ha celebrato la prima seduta del Consiglio Comunale della Nuova Era Biancani Belloni Presidente del Consiglio Comunale di Pesaro Belloni un babbo chiamato Presidente beh c'è anche un lato umano di questa situazione non si parla solo di politica ma si parla anche di una situazione personale in quanto Belloni ha dedicato questo suo nuovo incarico al figlio è un figlio particolare si cattra di Enrico quando è nato ha detto Belloni mi ha cambiato la vita mi ha fatto capire quali sono le cose più importanti mi ha dato l'equilibrio giusto per raggiungere traguardi che nessuno si sarebbe aspettato da me ebbene è un figlio particolare a cui appunto questa dedica acquista un duplice significato uno per la persona stessa uno per tutta l'attenzione che viene data ai figli in quello stato Pesaro l'identità passa dai quartieri Macola farà un film per raccontarla si tratta di un progetto questo che viene evidenziato dal Carlino che raccoglie parole visioni e suoni creati e vissuti dalla gente in autunno verrà proiettato al cinema Astra vediamo anche la pagina scusate la pagina che riguarda le notizie dalla città abbiamo un festival è quello del Santa Marta il bis la cucina col sapore in più è la seconda edizione che si svolge all'istituto alberghiero ovviamente si tratta di gastronomia perché all'alberghiero si impara a cucinare si impara a servire ai tavoli si impara insomma a promuovere il turismo chef e camerieri i ragazzi dell'istituto non ma dotati ma anche quelli speciali fino al 30 luglio si gusteranno prelibatezze da tutta Italia è un festival questo che si prolunga ma è anche un festival della buona cucina quindi è un'iniziativa importante vediamo ancora qualche altra notizia sul Corriere Adriatico la seconda apertura nella pagina di fronte alla prima è dedicata a Giacomo Mattioli Giacomo Mattioli è il nuovo presidente dell'Aset S.P.A. l'azienda partecipata ha circa il 99% dal comune di Fano e che gestisce tanti tanti servizi e sono servizi importanti quali la fornitura idrica la raccolta dei rifiuti e poi controlla i parcheggi a pagamento insomma ci sono tanti tanti servizi l'illuminazione pubblica lo sfalcio dell'erba insomma sono veramente tanti i servizi che vengono erogati dall'Aset il nuovo presidente sarà Giacomo Mattioli raccoglie il testimone da Paolo Reginelli al quale viene anche data conferma di una buona gestione dell'azienda l'azienda in buona salute ha un bilancio buono e si prospetta ad affrontare le nuove sfide dei prossimi anni e proprio queste nuove sfide Giacomo Mattioli intende affrontarle con determinazione Giacomo Mattioli è una particolarità è il figlio di Gianni di Giovanni Mattioli che per otto anni ha ottenuto lo stesso posto ha guidato l'Aset all'epoca della giunta a Guzzi preparerò l'Aset alle gare sì perché tra poco tra pochi anni ci sarà la prima gara per il rinnovo del servizio idrico dell'acqua e quindi l'Aset dovrà gareggiare con altri competitor molto molto più agguerriti e affermati di questa nostra azienda che è un'azienda locale ma che dovrà anche per così continuare a fornire investimenti nel nostro territorio gli utili se così si possono chiamare vengono investiti da Aset per il rinnovo delle tubazioni per arginare le perdite appunto idriche ma comunque quello è un servizio che dovrà continuare a gestire l'Aset ma per farlo dovrà vincere le gare e sarà un appuntamento molto molto importante per Giacomo Mattioli tiriamo ancora la pagina passiamo a Cagli a Cagli dove si parla della giunta di Alberto Alessandri che è stato confermato nella sua posizione nel suo ruolo di sindaco della cittadina preapenninica l'ex segretaria del PD entra nella giunta Alessandri ebbene si tratta si tratta della continuità di questa giunta come annunciato in campagna elettorale il sindaco ha tenuto conto delle competenze in questo caso ha confermato Ivan Casavecchia ai lavori pubblici il consigliere in assoluto più votato con 678 presidenze ebbene cultura turismo beni monumentali e archeologici verranno gestiti da Benilde Marini che cede lo scetro alla vicepresidenza a Simone Palazzetti Simona Palazzetti sempre assessore all'ambiente all'urbanistica al sociale e alle pari opportunità questo per quanto riguarda le innovazioni e le conferme della giunta Alessandri di Cagli a Pergola a Pergola vediamo una iniziativa ci sarà l'inaugurazione della scritta per la capitale della cultura 2024 l'impegno per passare il guado il valore simbolico dei fiori blu ebbene che cosa significa questo titolo i fiori blu passare il guado è il progetto ideato da un'associazione si tratta della Gea Casolaro per il quartiere delle tinte fortemente danneggiato durante l'alluvione del 2022 l'iniziativa rientra in tutto un progetto diffuso anche da Pesaro capitale italiana della cultura attuato da casa la sponge di Pergola blu insomma blu è un colore che identifica un po' quello stato di bisogno che hanno queste località e siamo in conclusione per cui non mi rimane altro che segnalare il titolo di Senigallia che parla di Movida in sicurezza pugno di ferro quattro giovani finiscono nei guai ed è la reazione delle forze dell'ordine di fronte ad una situazione problematica che a Senigallia vogliono risolvere e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani a risentirci grazie per l'ascolto